Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari e benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi vedremo i criteri di similitudine. Cominciamo con il primo criterio di similitudine. Il primo criterio dice due triangoli sono simili se hanno gli angoli interni ordinatamente congruenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'angolo in A deve essere congruente all'angolo in A l'angolo in B deve essere congruente all'angolo in B e l'angolo in C deve essere congruente all'angolo in C. Se gli angoli interni sono congruenti di due triangoli allora possiamo dire che abbiamo similitudine. Cosa ci serve dire che abbiamo similitudine? Se due triangoli sono simili non solo hanno, quindi avranno, gli angoli interni congruenti ma anche i lati saranno in rapporto tra loro. Cosa vuol dire che se due triangoli hanno gli angoli interni ordinatamente congruenti valgono tutte le proprietà di cui godono i triangoli simili. E qual è l'altra proprietà che godono i triangoli simili? E' che O in altri termini, se vogliamo scrivere la stessa cosa con delle frazioni possiamo dire che A'B' su AB che è un rapporto è la stessa cosa è solo che cambia il come lo scrivo qui ho usato un diviso qui ho usato una linea di frazione è identico però molti studenti si confondono a vedere le due scritture sappiate che è la stessa cosa quindi A'B' fratto AB questo rapporto è uguale all'altro rapporto che è uguale all'altro rapporto ancora che è uguale a che cosa? al nostro K quindi in realtà se due triangoli sono simili c'è un K quindi c'è un rapporto di similitudine tra i lati cioè basta avere le misure degli angoli e se gli angoli sono ordinatamente congruenti allora posso dire che anche i lati godono della proprietà quindi c'è un K se io prendo questo lato e lo moltiplico per K trovo questo se ho questo lato e lo moltiplico per K trovo questo eccetera eccetera vediamo il secondo criterio di similitudine il secondo criterio di similitudine recita così due triangoli sono simili se hanno un angolo congruente e i lati dell'angolo di questo angolo in proporzione tra loro ciò vuol dire che ad esempio se so che B è congruente a B' quindi questo angolo è congruente a questo e so anche che quindi se B è congruente a B' e i lati sono in proporzione tra loro di questi angoli quali sono i lati dell'angolo B? i lati sono AB e BC quindi AB è in proporzione con A'B' questo è in proporzione con A'B' e che a sua volta BC è in proporzione con B'C' BC è in proporzione con B'C' quindi se ho l'angolo un angolo congruente e i lati in proporzione come ho scritto allora posso dire che questi due triangoli sono simili cosa mi giova a dimostrare che sono simili? beh, dimostrare che sono simili mi giova perché su questi triangoli valgono tutte le proprietà dei triangoli simili ossia quali sono queste proprietà? che tutti gli angoli sono congruenti quindi anche A è congruente ad A' e anche C è congruente a C' e che non solo queste coppie di lati qui sono in proporzione tra loro ma abbiamo anche il terzo lato che è in proporzione vediamo il terzo criterio di similitudine cosa dice il terzo criterio di similitudine? che due triangoli sono simili se hanno i lati corrispondenti in proporzione tra di loro ciò vuol dire che se A' B' sta ad A' B A' B' sta ad A' B come? B' C' sta a B C B' B' C' sta a B C come? C' C' sta a C' C' A' sta a C' A' allora sono simili cosa vuol dire che sono simili cosa cosa è utile cosa c'è utile sapere che due triangoli sono simili perché c'è importante sapere che sono simili perché posso applicare tutte le proprietà di cui godono due triangoli simili ossia c'è un K quindi c'è un rapporto di similitudine che è esattamente dato da questi che è sempre lo stesso questo rapporto ma anche che gli angoli interni sono congruenti cioè dicendo che tutti i lati sono in proporzione tra loro allora dico anche che A è congruente ad A' B' B è congruente a B' C' 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 che è il rapporto di similitudine che è utile per risolvere i problemi e gli angoli interni sono congruenti ma questo l'abbiamo già dimostrato però ci basta questa informazione sugli angoli interni per dire che i triangoli sono simili secondo criterio di similitudine se abbiamo un angolo corrispondente e congruente e i lati di questo angolo sono tra loro in rapporto quindi AB sta da primo I' come BC sta AC' B' ecco allora che possiamo dire che questi due triangoli sono simili perché c'è utile dire che sono simili? perché valgono le proprietà dei triangoli simili quindi sappiamo che tutti i lati sono in proporzione tra loro, esiste un K e che tutti gli angoli interni sono congruenti terzo criterio di similitudine abbiamo detto se tutti i lati sono in proporzione tra loro quindi questo sta questo, come questo sta questo, come questo sta questo ecco allora che i triangoli sono simili se sono simili, di nuovo i lati sono in proporzione tra loro, esiste un K cioè questo, l'abbiamo detto, da dove siamo partiti però esiste un K che è un rapporto di similitudine utile per risolvere i problemi ma sappiamo anche che gli angoli interni sono congruenti cioè basta un'informazione più piccola per entrare e identificare il caso generale e nel caso generale abbiamo queste due proprietà che sono molto molto utili anche il fatto che gli angoli interni sono congruenti può essere un'informazione molto utile ad esempio per risolvere altri problemi e di sicuro nella vostra carriera scolastica nei prossimi anni avrete modo di utilizzare anche questa proprietà nei prossimi video vedremo come applicare questi criteri e fare qualche dimostrazione spero di essere stato d'aiuto, grazie e alla prossima video lezione